Io credo che molestare quotidianamente i cittadini italiani con minacce, toni di un certo tipo, risse, sia sbagliato. Per cui io rispetto chi lo fa. Dico che non troverà mai in me una sponda. Io vado avanti con il lavoro. Mi faccia finire. I cittadini italiani vogliono sapere cosa facciamo. Oggi siamo qui all'ANAC, stiamo parlando di lotta alla corruzione, parliamo della credibilità che l'Italia sta guadagnando a livello internazionale nella lotta alla corruzione. Questo è quello che interessa i cittadini italiani e a loro sicuramente interessa che questa settimana in Consiglio dei Ministri andrà probabilmente, perché la convocazione deve ancora arrivare, la riforma del processo penale. Se per loro l'importante è mantenere la bandierina della prescrizione, perché di fatto la bandierina la sta mettendo il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione, forse anche perché sono un momento non particolarmente facile all'interno del loro partito e quindi hanno bisogno di mantenere in qualche modo questo principio. Se ne assumeranno la responsabilità. Noi da mesi l'abbiamo detto in modo trasparente che non eravamo d'accordo. Abbiamo presentato una proposta che non è di cancellare la prescrizione di Buona Fede, ma di dire troviamo una soluzione migliore, facciamo funzionare davvero i processi. Nel frattempo però fermiamoci, fermiamo la riforma Buona Fede perché così non funziona e poi si ne assumeranno loro la responsabilità. L'atteggiamento di Italia Viva è un atteggiamento che non comprendiamo, non comprendiamo se sta facendo l'opposizione al posto di Salvini, Meloni e Berlusconi. In ogni caso se vuol fare qualcosa per gli italiani deve mettersi a lavorare con noi per la riforma del processo penale, per ridurre i tempi. C'era una volta una bella trasmissione di Renzo Arbore con un grande comico catalano. Se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte, la risposta è nelle cose. Io credo che siano appunto parte di un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli italiani non ne possono più. Nel merito della prescrizione penso che la soluzione sia portata di mano, se c'è volontà politica, ma sta arrivando il ministro Franceschini che ne saprà sicuramente di più.